Mi chiamo Michele Creanza, sono un restauratore e questa attività sia per passione che anche per lavoro l'ho intrapresa da mio padre che ha aperto questa attività nel 54. Un bel po' di anni, possiamo dire che sono nato qui in bottega, tutto quello che realizzo è semplicemente il restauro dei mobili con prodotti naturali che si sono sempre usati per la finitura degli stessi. Come la gomma vacca che è questa qua in scaglie, una resina di alberi o di piante proveniente dall'India che poi viene essiccata e diventa come una pellicola ambrata che si scioglie e viene sciolta in questo alcol. E poi si passa direttamente sul legno. Dopo che è stato pulito e consolidato si ripassa sul legno per dare la colorazione, la vernice e quindi la finitura. Si può ultimare la lucidatura della stessa o con il tampone, come sto facendo in questo momento, oppure con la cera. Il tampone è più lucido mentre la cera è più opaca e il tampone ha bisogno di più mani affinché venga lucido, il cosiddetto lucido a specchio. Grazie. Grazie a tutti.